Allora Presidente, una giornata importante, le Marche salutano a salutare i propri attrattivi? Sì, è una grande soddisfazione, un grande orgoglio salutare la nostra delegazione che parte per Parigi, dopo tanto impegno e devo dire che c'è anche una certa emozione perché vedere qui tanti campioni affermatissimi e tanti altri giovani, ecco ci dà molta soddisfazione, orgoglio, entusiasmo, ma anche consapevolezza che la nostra è una regione che sta crescendo tantissimo nello sport anche grazie agli sforzi fatti dalle società sportive e dalle amministrazioni locali che hanno investito sulle infrastrutture e questo credo che sia il risultato che più ci mette anche davanti a quello che è il ruolo della pubblica amministrazione che quando è preparata e efficace produce ottimi riscontri. Qui c'è da cogliere anche per il prossimo Testimonia delle Marche? Qui c'è da cogliere anche per tanti Testimonia perché ognuno di loro può raccontare la nostra regione e fa piacere che comunque ognuno di loro resta aggrappato al nostro territorio, questa è una grande soddisfazione, il fatto che loro si sentano marchigiani credo che sia una prova di quanto questa terra è comunque una terra che dà emozioni e che ci rende tutti orgogliosi.